Per il primo settembre, data di inizio del campionato di Lega Pro, il manto erboso sarà pronto, promettono a Barletta. Il verde ha già tecchito, diciamo così, in alcune zone del campo, come vicino alle porte. In altre c'è ancora qualche problema. Troppo poco dunque per disputare la prossima gara in casa di Coppa Italia con il Melfi del prossimo 28 agosto. La prima partita del girone per i biancorossi sarà domenica con il Martina, quella con i Lucani potrebbe essere disputata a campi invertiti. se non sarà trovata una soluzione nei prossimi giorni. La società infatti sta valutando la disponibilità di altri impianti nella zona. Il terreno di gioco del Puttilli, lo ricordiamo, è stato sottoposto ad intervento di Semina alcuni giorni fa, con circa un mese di anticipo rispetto a quanto inizialmente previsto in virtù di un attacco fungino. Intanto il Barletta, che si presenta ai nastri di partenza rinforzato rispetto alla scorsa stagione, si allena allo stadio comunale di Corato. Per la partita con il Martina, squadra che milita in seconda divisione, i biglietti del settore ospite sono in vendita sul circuito online Go2 al prezzo di 10 euro. Nell'occasione sarà adottata l'iniziativa Porta un amico allo stadio, che consente ad un tifoso titolare di supporter card o tessera del tifoso di acquistare un biglietto per un amico non tesserato.